andavanti. Grazie a Zelli. Sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi sostenitori e un messaggio in questo periodo. Messaggio a tutti gli italiani, le cose stanno cambiando e andremo avanti, non ci faremo fermare. Grazie a Zelli e ho la manuna del salutatore per salutare tutti i fan. Saluti lei con la manuna. Grazie, grazie a Zelli, ciao.